Ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati sul mio canale io sono John Redd e oggi parliamo di Amici21 ecco chi è stato eliminato nella terza puntata del serale è appena andato in onda la terza puntata del serale di Amici21 e come avete già capito dall'inizio del video il primo eliminato di questa puntata è stato John Eric mentre incerto era la seconda eliminazione che grazie alle anticipazioni trappelate sapevamo solo i nomi di chi andava al ballottaggio ovvero Nunzio contro Leonardo questo nome è stato poi comunicato in casetta e solo dopo la puntata siamo riusciti a sapere il nome dell'eliminato quindi vediamo le carte e voi siete d'accordo con quest'ultima eliminazione scrivete nei commenti e ditemi la vostra per il momento ho concluso il video se vi va iscrivetevi al mio canale per altre news un grosso abbraccio da John Redd un grosso abbraccio da John Redd